Faccio una spesina Sei contenta mamma che è quasi finito Vedere Questi sono i veri manga Dentro qui Ok Io questa la metto dunque Questi sono dei miei colori preferiti in assoluto Questo A me è molto fine Dietro è so La settimana scorsa ho avuto un contatto con un positivo Bonjour Noi siamo stati in ospedale Adesso facciamo un giro al cimitero Dove facciamo la spesina Sei contenta mamma che è quasi finito? Sì Mi mancano due Due sedute Dai ce lo possiamo fare Sarò libera Ma più o meno Più o meno C'è ancora Operation Buongiorno Oggi è giovedì 3 Io sono andata con mia mamma A fare appunto gli esami E in realtà Mia mamma finalmente a breve finisce 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 la chemio E sono contentissima Perché vi giuro sono stati sei mesi Veramente Veramente duri Ma molto molto duri E vedere la fine È quasi C'è Surreale Tutto ciò Non so come dirvi Domani che è venerdì Ha la penultima chemio Poi settimana prossima L'undici Ha l'altra E poi fine Dovrà fare tutti i vari esami Giovedì pomeriggio Abbiamo già l'appuntamento Con il chirurgo Così almeno Si deciderà Insomma Che Ci diranno Che intervento Si sottoporrà mia madre Per dicembre Sono felice Perché è stato un percorso Purtroppo Solamente chi Ci passa O comunque Chi fa Tra virgolette Da caregiver Diciamo così Quindi I familiari stretti O comunque Chi segue la persona Malata di cancro Effettivamente Può comunque In parte capire Quello che sta passando Alla persona Poi ovviamente È sempre la persona in sé Che Che purtroppo Ha la malattia Io ammetto Che sono veramente Molto ma molto più serena Quindi Cioè Sembra assurdo Vi giuro Sembra veramente assurdo Assurdo Sono volata da mia zia In realtà Siamo passati al cimitero Da mia sorella Abbiamo fatto un po' di giri Stamattina Siamo passati d'acqua e sapone Sono volata da mia zia Che è ritornata Dalle Filippine E ci ha dato un po' di cose No Bello Insomma Ci ha dato Poi magari vi faccio Dei Dei Close up Ci ha dato le banana chips Mango I rambutan Che sarebbero tipo I licis Che ci sono qua in Italia Solamente che sono Pelosi fuori Questi 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 frutti Le banane Il platano Che tra l'altro Io il platano non lo mangio in realtà Però le banane si E sono stra buone Sono super nutrienti Quelle E Cos'è che ci ha portato? Ci ha portato anche altra roba Però vabbè Insomma Poi magari mi metto l'equip Io adesso vado a casa Perché appunto Porto alcune cose a Marco Stasettimana alla fine Mi vedete sempre appunto a Milano Ma perché effettivamente Sono a Milano E Perché ci sono appunto Sui genitori di Marco E quindi Cioè Secondo me è veramente Inutile fargli prendere Le Airbnb Dove comunque La casa ce l'abbiamo Io ho il posto per dormire Qua dai miei celò Perché c'è C'ho sempre abitato Cioè Non è che vado A A spendere soldi Per andare da qualche altra parte E non volevo far spendere A loro Soldi Quindi così almeno Insomma Riusciamo Cioè siamo un attimo Un po' più organizzati Tanto io comunque Sia Tutte le volte che lavoro Che mi sparo le 10 ore Io comunque resto a Milano Già di base E E poi Quando mia amma Di solito la chiamio Io resto a Milano A dormire Perché poi veramente Almeno recupero un po' il sonno E quindi Niente Solo che adesso Vado su da loro Così gli porto un po' di roba E Madonna mia Madre urla Quando parla Oggi è sabato Dovrebbe essere Mi ricordo più 5 Sì 5 novembre Cioè il primo intervento Così almeno ho il tempo Di sistemarmi Così non devo correre Devo solamente farmi Il mio brunch Stamattina mi sono presa Il latte Con il ginseng Il latte di soia Con il ginseng E al massimo Mangerò un frutto Mi porto qualcosa Da mangiarmi nel mezzo Perché secondo me Oggi sarà Bella dura Non so se portarmi Tipo un frutto Una banana Adesso vedo Vedo un attimo Che cosa portarmi E E niente Quindi io sono Sempre qua dai miei Questo è quanto Mi sono già preparata Mi devo solo truccare Devo mangiare Mi devo avrere i denti Dopo E basta Ho già tolto Tutti i monili possibili A parte questo anello Che però lo tengo sempre Perché Questo qui è quello Di Atelier VM Non so se si vede Eccolo qua Che in realtà Non mi dà fastidio Quindi lo tengo Però per il resto Tolgo tutto Ah no Devo togliere il braccialetto Questo qua Questo qua d'argento E quindi Questo quanto A parte le mie labbra Che di nuovo Si sono spaccate Posso iniziare la mia giornata Mi sono fatta Tipo in un pacco Stamattina Volevo farvi vedere Questi banana chips Che li ha portati Mia zia Dalle flippine Questi non so Se li abbiamo mai fatti vedere In qualche haul Asiatico Però Questi sono buonissimi Altra cosa Questa è un'altra cosa Che vi volevo far vedere Prima di iniziare a mangiare Questi qui sono i platani Che ci sono da noi E questi sono dei frutti Come si dice Che sono come i lichis In In Italia Che trovate al supermercato Invece questi sono un po' più pelosetti Però il sapore è uguale A quello dei lichis Forse un po' più dolce Leggermente più dolce Però si chiamano rambutandano E sono stra 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 buoni Volevo farvi vedere Questi sono i veri manga Manga Mango Belli dolci Insomma Questo ancora lo dobbiamo mangiare Però Questi qua sono i mango Veri Non come quelli che vendono qua Che costano un fottio Sono buonissimi Ultima cosa che penso Che ci mangeremo Sono questi Flafloma Moon Di questo brand Che si chiama Gold Lux Che io adoro Vabbè Io mi mangio Il mio Col a pranzo Mi sono mangiata Pezzo di mango Guarda che bello Ma niente Io non c'è Questa Non c'è Non c'è Non c'è Sono senza capelli Non è senza capelli Vieni Caglia Oh Mangio Mia mamma Non mangio niente Buono È buono? Non ho voglia di andare a lavoro Ah Dio Buongiorno Da un po' di giorni Questa situazione Ha la bocca Che mi sta veramente Dando sui nervi Però sto cercando Di sistemare La bocca Cioè nel senso Sta mettendo creme su creme Cercando di idratare Mi sto coprendo per bene Mi è in scooter Ma vi giuro che È un delirio Questa bocca Comunque sia Devo preparare Un po' di roba E quindi Penso che Mi porterò dietro La mia valgetta Merendina Sono indecisa Su cosa mangiare Se questi biscotti Senza lattosio Cioè senza latte Oppure se I vecchi amati Plasmon Buh Fanzulli Zulli Buonasera Allora Niente Ho fatto un po' Merenda Oggi è appunto Sempre giovedì 10 di novembre E oggi è un anno Che mi sono messa A vloggare più di tanto Devo essere sincera Perché Come anche tutta questa settimana È stata veramente Veramente super frenetica Anche perché Poi io In questo periodo Sono più a Milano Che a casa mia Fondamentalmente Però Ieri che era mercoledì Ho portato la macchina Praticamente dal meccanico Di Marco Quindi sono Nella monsovrianza A fare il tagliando E quindi L'ho lasciata là Mi sono fatta accompagnare La sera Che ieri era mercoledì Qui Perché mia mamma Stamattina Aveva appunto Gli esami del sangue Gli ultimi esami del sangue Pre-ichemio E la terapia ovviamente Che lei si fa di solito Insomma Il giorno prima di fare La chemio E poi oggi pomeriggio Avevamo la visita Senologica Domani mia mamma Farà l'ultima seduta Di chemio Quindi questa avventura Di sette mesi È praticamente quasi Giunta al termine Oggi pomeriggio Le hanno programmato L'intervento Che terrà a dicembre Ovviamente dovrà ancora Fare tutti i vari esami Sempre questo mese Ma per vedere A chi livello è Come sta Insomma Sto benedetto tumore E niente Quindi in realtà Siamo state Cioè abbiamo fatto avanti e indietro Poi abbiamo pensato Di fare dei pensierini Anche al The Hospital Stasera vado a prendere Dei biscotti Che abbiamo ordinato qua Insomma qua in zona vicino Che in questa sorta di Barbar pasticceria Che a me piace tantissimo Io avevo preso Una torta tipo Per il mio compleanno E che è buonissimo Cioè veramente È veramente buona Come pasticceria E domani appunto Mia mamma C'è la chemio Poi Mentre eravo a fare La visita Senologica Col chirurgo Ricevo la telefonata Dell'oncologa Che mi dice Mi raccomando Dietro a mamma Di prendere il cortisone Perché appunto Ha di nuovo I colobbio bianchi Basti Routine Ovviamente per mia mamma Domani mattina Ripeterà l'emocromo Quindi dobbiamo arrivare Andare presto Poi c'è pure lo sciopero Dei mezzi a Milano Quindi cioè vi giuro Vabbè Saremo cariche come dei muli Non lo so come faremo domani Vabbè Però Insomma Siamo giunti a termine Quasi E Sembra assurdo Però È quasi finita Adesso ne approfitto Che sono qua a casa Sarei dovuta andare in palestra Ma penso che ci andrò domani Quando accompagno mia mamma A fare appunto la chemio Poi la lascio la 4 ore E poi dopo la vado a riprendere In quel mezzo Vado appunto in palestra Perché stasera Ho deciso di volermi Sistemare le unghie Io non mi ricordo Se vi ho mai fatto vedere Il kit Che mi sono comprata Di mia nails Di mia nails Scusatemi E adesso Dato che ce l'ho a Milano L'ho portato apposta Ve lo faccio vedere E mi seguite da un po' di tempo È da settimana Che avevo le labbra Veramente disastrate Si sono riprese da pochissimo Cioè Vi giuro Il fatto che abbia le labbra Di nuovo ridefinite Lasciate qua la crosta E il fatto che sono anche più scura qua Ma sono delle cicatrici Che poi spero Vivamente Che andranno via Avevo avuto un problema Le labbra Cioè Veramente avevo queste ragadi Pesantissime Mi faceva troppo male Sto bene detto Bocca Comunque sia Finalmente Riesco a mettermi il rossetto Riesco a mettermi Un sacco di cose Oggi poi tra l'altro Subito dopo gli esami del sangue E la visita Siamo andate Un attimo in Corso del Buenos Aires E siamo anche andate da Tiger E vi faccio vedere Tra l'altro Che cosa mi sono presa Per l'anno prossimo Scusi tanto Però prima voglio fare vedere Il kit di Mea Nails Queste qua sono le mie unghie Ora Io praticamente ormai mi faccio Il semi permanente a casa Ma ovviamente devo avere Il tempo di fare questa cosa Madonna non si vede niente Aspettate Intanto Non mi ricordo Con quale codice sconto Comunque Avevo preso Il Remover Questo qui E questo qui Che era lo sgrassante Quindi Ho preso i flaconcini Perché per esempio Dello sgrassante Avevo Le confezioni Tipo Monodose Diciamo così E a questo giro Mi sono preso i flaconcini Vabbè Io ho sempre La mia lampada famosa Che in realtà Questa lampada C'è Ce l'ho da un bel po' Ce l'ho veramente Da un bel po' Questa qui Questo Poi mi sono portata A Milano Il kit Dentro qui Ok Tra l'altro Tutto dentro Questa piccola Scatoletta Praticamente Loro mettevano Dentro Il refill Di ordine Che ho fatto Anche questi Come si dice Questo cotone Ecco Sono la versione Software Della felicità Niente Ogni tanto Parla da solo Gli devo levare Sta cavolo Di modalità Poi Questo qui È Lo smaltino Che io utilizzo Ed è Questo rosa Appunto Che vedete adesso Sulle mie Dita Cioè sulle mie Unghie Ed è Questo gel polish Di Rosalind Vi avevo fatto vedere Forse in qualche vlog Non mi ricordo più Comunque su Instagram Questi smaltini qua Perché ce l'ho Sia neri Che ce l'ho Sui piedi Questo smalto nero Bianco Rosa un po' Più acceso Rosa tenue Rosino Chiaro Questo qui C'erano un po' Di colori E forse anche Marroncino Tipo una cosa Del genere Poi Il primer Che questo In realtà Non l'avevo mai avuto Perché io avevo La versione Peel off Di mia nail Poi 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 Altra cosa Il top coat Ovviamente E La base coat Eccole qui Niente Vi faccio vedere Appunto Veramente Una cosa O due Non mi ricordo più Quante cose Ho preso Di recente Però Vi faccio vedere Anche un'altra No Una cosa Ho preso Da Tiger Allora E' tutto qua dentro Questa qui tra l'altro E' la borsa riutilizzabile Che Se mia mamma Le ho fardata E per fortuna Ce l'aveva Allora Si è presa Lei Questa cosa qua Che non so neanche Quanto l'abbia pagata Perché non c'era il prezzo E sono gli organizer Tipo per la valigia Che ha pensato Di prenderla Per l'intervento Per mettere magari Che ne so La biancheria Ecco Più che altro Quelle cose lì Ha preso questi Che Io ce li ho Però lei non li aveva Per mettere dentro Reggisseni Calze Mutande I retini Insomma Per la lavatrice Poi Non chiedetemi com'è Ma si è presa L'ennesimo Coso Questi cosi qua Che secondo me Sono inti di maladee E poi Io mi sono presa Questa agenda L'agenda secondo me E' super carina E' tutta scamosciata L'ho presa piccola Non l'ho presa grande Se non mi sbaglio L'ho pagata 4 euro E' un'agenda giornaliera Ha anche il segna Coso Il segna Fagina Il segna Coso Ed è appunto Giornaliera E l'ho pensata Per segnare le cose Di youtube Barra casa Sully Buongiorno Allora Io sono a casa Sono arrivata da poco In realtà oggi c'è sciopero Dei mezzi Cioè oggi è venerdì 11 Ho accompagnato mia mamma A fare l'ultima seduta Di chemio L'ultima Stamattina ho dovuto ripetere Ovviamente gli esami Perché aveva i globuli bianchi bassi Ma soliti a routine Insomma Ho preso il cortisone ieri E il cortisone stamattina Ha fatto colazione E poi è andata a farsi l'emocromo E poi dopo le hanno iniziato la chemio L'ho lasciata là Io nel frattempo Mentre ero in dei ospital Ho ricevuto La telefonata Dalla segreteria della chirurgia E mi hanno detto un po' di robe Prericovero Un po' di cose Che deve fare mia mamma Infatti sono incasinata Mi devo segnare tutti in agenda Perché io Va a finire Che divento scema E poi altra cosa Ho ricevuto questo pacchettino qua Della Dr. Jart Che volevo aprire con voi Apriamo questo pacchettino Wow Mi hanno inviato Tutta la linea invernale Cioè tutta Non so Penso che sia la maggior parte Della linea invernale Che io adoro Della Ceramidin Questa qua gialla D'inverno è l'ideale D'inverno è l'ideale Veramente l'ideale Mi hanno inviato Veramente un po' di cose La linea Ceramidin È la linea che io utilizzo D'inverno in realtà E è super idratante E protegge soprattutto Durante questi periodi Anche di cambio stagione Mi piace tantissimo Ma soprattutto D'inverno Mi piace tantissimo La loro crema Che d'inverno è un must Perché io andando in scooter Di solito Mi si spaccano Mi si screvolano Tutte le mani Sempre La prima È questa qui Questa maschera Che loro In realtà Me la inviano periodicamente E la adoro Questa maschera Non riesco a mostrarve L'aiuto La crema qui Che è il È una crema Super idratante Rimpolpante E Soprattutto Lenisce Sapete quando avete Proprio quella pelle secca Invernale Bruttina Ecco Questa è ottima È veramente ottima Spray Idratante Potete applicarlo La mattina O comunque anche Più volte Durante la giornata Io questo ce l'avevo E se non mi sbaglio L'avevo pure finito È proprio la La cosa favolosa Loro Che non sono pesanti Per niente Cioè E poi hanno Mamma mia Questo profumo Che a me ricorda Tantissimo l'inverno Anche il siero Spero che Eccolo qua Lo siero In realtà Io non l'ho Mai utilizzato Questo Però sono Veramente curiosa Di provarlo E anche questo È indicato In realtà Per tutte le stagioni Però Wow La texture È sempre leggera Di questo prodotto E a me piace Proprio perché È super Leggera Mamma mia Ragazzi Il prodotto qua Che invece È Contorno occhi E anche questo Non l'ho mai provato Sempre idratante Vediamo 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 La text In realtà Wow Leggera anche questa La mia crema Del cuore Io questa La metto ovunque Tutte le zone Proprio più secche Del mio corpo Poi magari Metto un'altra crema Super idratante Però Questa Mi è amica La posso portare In giro È un tubetto Che non è Ne troppo grande Ne troppo piccolo Sono 50 ml Potete portarla Anche nel bagaglio a mano Buongiorno Allora Oggi è sabato Oddio Voglio morire Poi racconto Il mio tardo Colpicio di ieri Buongiorno Ogni lunedì mattina Inizio sempre Con la valigia Sto andando a lavoro Però ovviamente Mi fermo dai miei Perché oggi Faccio tutta la giornata Domani faccio tutta la giornata Ma poi domani Sera che è martedì Torno a casa Buongiorno Buongiorno Niente Io sono tornata a casa Ho mangiato E tra l'altro Cioè volevo riprendervi Quello che stavo mangiando Ma Cioè mi sono abbuffata E Ho fatto due foto in croce Vabbè Ma in realtà Ho mangiato gli gnocchi Quelli tricolosi Nulla di che E le melanzane alla griglia Fine Io di nuovo Proleva le labbra Ok Io Riprendo a lavorare Dopo Devo ancora messare Tanto Vado a lavoro Ok Non vedo l'ora Di aprirlo In pausa Pranzo Sono corsa qua Dai miei Anche se fra un'ora Esatta Devo già tornare Ve lo farò vedere meglio Sicuramente Comunque Mi sono presa Lo zaino Della Tropic Feel Questo qui è un mini pouch Che si aggancia davanti E questo Praticamente È una sorta di wardrobe Shell Diciamo così Che si mette all'interno Vi faccio vedere la foto Se riesco vi trovo dei frame Ma tanto Comunque farò un unboxing Dove ve lo faccio vedere Realmente Buongiorno Allora Oggi è Vorrebbe essere Giovedì Aiuto Oggi è oltre dieci ore Non voglio sparare Cenetta È ufficiale È ufficiale Davore Dai Panciulli Buongiorno Allora Oggi è venerdì Io ho appena preso Un regalo Per una nostra collega E Niente Adesso sto scendendo E sto tornando A casa Perché In realtà Devo andare A fare delle commissioni Eccomi scusatemi Ma c'era troppa gente In giro Mi vergognavo un po' A vloggare così E Niente Quindi Ho preso appunto Il regalo A Questa nostra Collega Os E Aiuto Aspetta E nulla Invece adesso Torno a casa Che appunto Ho delle commissioni Da fare con Marco E Stasera poi vado Alla festa di compleanno Però vi devo dire una cosa Che Stamattina abbiamo fatto Mia madre ha fatto la visita E E niente Ha fatto l'eco Di controllo Col chirurgo proprio Dicendo che Mia madre ha fatto la visita Col chirurgo Cioè L'eco L'eco col chirurgo E Così Proprio Da eco Sembra che Sia sparito tutto Ovviamente Poi bisogna vedere Una volta aperto Eccetera Però La cosa è molto Molto positiva Cioè Nel senso Significa che lei Comunque sia Cioè Veramente potrebbe essere Che Lui eliminerà Insomma radicalmente Questo Questo tumore E speriamo Perché in realtà Deve ancora fare La mammografia La tac Però comunque C'era il chirurgo Che ci teneva A fare questa ecografia In più In realtà lei Poi a fine mese C'ha tac E coi mamma Ancora Infatti ha detto No 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 Voi fate tutte le vostre visite Eccetera eccetera Questa è una cosa informale Che io Di sale già faccio Con tutti i miei pazienti Perché Mi voglio poi preparare Per l'intervento È una cosa proprio mia Amore No Non si vede Non si vede Non si vede Non si vede Non si fa niente Comunque Ce l'abbiamo fatta Ci siamo È ufficiale È ufficiale Cianciulli buongiorno Oddio Oggi è sabato Dovrebbe essere 19 novembre E niente Io sto andando A fare la chirurgia Mi sono alzata tardissimo Perché io eri sono andata A un festo appunto Di compleanno Ma Insomma Non sono più abituata A fare queste cose No non è vero Cioè In realtà Non ho approfittato Di dormire Perché inizio a lavorare Alle 11 e mezzo Quindi Ok Io Abbiamo un problema Alle labbra Buongiorno Madonna Sto andando a lavoro Oggi è lunedì Se stamattina si gela Io sono pure in ritardo Però Voglio mangiare un attimo E rendermi presentabile Io ce la faccio Struccatissima Cianciulli Allora Eccomi qua Io sono tornata un attimino A casa a mangiare Mentre mia mamma Finisce di Di preparare tutto Ne approfitto Perché in pausa pranzo Mi sono arrivati Dei pacchetti Mi sono arrivati Dei pacchettini Volevo spacchettarli Con voi Allora Da Amazon Mi è arrivato Questo pacchettino qua Che in realtà Ho preso Ci avevo già preso Recentemente Vabbè No in realtà Non tanto recentemente Forse l'anno scorso Tipo Comunque Ho preso Le Le pellicole Per il telefono Dentro ce ne sono Di solito due E perché Mi si è sbeccato Praticamente Immaginatevi che questo Sia il mio iPhone Qua sopra mi si è sbeccato Il vetrino E quindi vorrei evitare Che a fuori farlo cadere Eccetera Si rompa del tutto È vero che volendo Lo potrei lasciare Lì così Però te lo ho E poi mi sono presa Questo power bank Guardate che carino Allora Adesso lo devo aprire Però è un power bank Praticamente magnetico Ok Si è aperto E l'ho preso C'è il cavetto Che mi era caduto Questo Che praticamente È magnetico Vedete Ah il colore è bellissimo Questo è uno dei miei colori Preferiti in assoluto Il blue knot E si appiccica So che si accende da qua Ok È al 79% Dopo lo provo Cioè me lo porto Perché lo voglio provare E ad appiccicare dietro A magnetico E fa la power bank Poi per ricaricarlo Ovviamente ci sono Le due presine Lo vediamo Ho fatto un pacchetto Che ho detto Prima di Spacchettarlo Lo apro Direttamente Nel vlog Ovviamente Questo È un brand Che mi ha inviato Una cosa secondo me Molto carina Che si chiama bigolino Che è questo Che in realtà Io ne ho già uno Però è sempre bene Averne più di uno Per me che viaggio Destra e sinistra Ed è il Coso per Insomma È una sorta di fascia Dove dentro Ci sono i ferrettini Che sono pieghevoli E voi potete farvi I bigolini Comodamente da casa Ve lo mettete di notte Sac Ve lo pinzate Qua in testa La mattina Ve lo togliete E vi fa i bigolini In realtà potete Tenerlo anche Tenerlo anche Tipo 3-4 ore Soprattutto perché Ha i cabelli Lisci come me Questi Sono veramente Meravigliosi Stasera Lo provo Questo altro pacchetto Anche questa È un'altra collaborazione Scusi Quest'altra collaborazione Mi hanno inviato Dei reggiseni Che secondo me Sono stracarini Guardate questo È una S Non so se viene Se sia grande Per me O cosa Però Ho preso la S Cioè una delle Misure più piccole A me piacciono tantissimo Questi reggiseni Bralette Così Li devo provare Ovviamente Perché No Però Il materiale Mi sembra Veramente Buono Secondo me È anche abbastanza Cioè Coprente Nel senso Che vi tiene il seno Non è che vi copre Così Che non ha senso Tenere stile Piuttosto non metteteli Se tenere i reggiseni così E poi mi hanno inviato Quest'altra cosa E ho paura Che sia È una S Non vorrei che sia Troppo grosso No 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 È uno sport bra Di questo verde qui E anche questo C'ha La parte Dentro Che secondo me È sfoderabile Sì La coppettina Dentro E Fa anche tipo Da magliettina Come potete vedere È un modello Che ho scelto Appositamente Guardate Simpatico Vediamo Anche questo Lo proverò E vi farò sapere Questo L'ultimo Anche di quello Ho preso una S Questo Ecco Infatti È lui Questo qui Secondo me È super carino È un po' Cioè Sicuramente Non per allenarsi Non per Però guardate Che bello Super carino È molto fine Dietro È sottile La parte Del laccio Guardate Si vede Carinissimo Grazie mille Per avermi inviato Queste Queste cosine Approssimamente Magari faccio Una sorta di call Barra recensione Se effettivamente Mi trovo bere Mi trovo male Se mi piacciono E vi faccio sapere Vado a mangiare Perché mi stanno chiamando Oggi è martedì Lattino Buongiorno Allora Oggi Aiuto Mercoledì 23 Niente Ultimo Giorno Di lavoro Mio Secondo me Stamattina Ho fatto pure Tardi Però vabbè Troverò probabilmente Tutta la macchina Inveciata Però vabbè Vabbè Buongiorno, allora, niente, io mi sto facendo il mio caffè latte classico, oggi sono a casa, oggi è giovedì, scusatemi, 24 novembre e mi mangio anche i miei biscotti. Niente, insomma, io non so neanche più da dover raccontarvi le cose perché quando io lavoro in realtà c'è come se andassi in un altro pianeta. Buonasera, allora, aiuto, mamma mia, ho fatto una giornata full di lezioni, mi volevo sparare, cioè in realtà ho finito da poco. E sono le 5 praticamente e niente, insomma, io in realtà ho tutto per aria, qua c'ho la roba, qua c'è un disastro assurdo, assurdo. Devo raccontare un pochettino come è andata sta settimana perché in realtà ho arrancato parecchio. Conciulli, allora, volevo sistemare un attimino qua le mie cose perché veramente, cioè, è un delirio assurdo. E che perché io ho roba letteralmente ovunque praticamente e volevo far partire anche una lavatrice perché abbiamo pure i termosifoni accesi, così almeno si stiano un po' di roba. Comunque, niente, io mi sono presa il giovedì libero per seguire le mie lezioni e anche se in realtà dovrei anche fare una cosa dopo, ovvero aggiornare il mio profilo di Agenas perché io comunque facendo adesso il master tecnicamente sono esente dai crediti. Quindi, essendo esente dai crediti, in teoria non dovrei per forza fare gli ECM. Quindi, dobbiamo adesso di sistemare sta cosa. Mi sono portata un po' di roba che mi sono fatta impacchettare da mia madre perché effettivamente qua a Monza io non ho più vestiti. Mi sono fatta dare anche il mio profumo e così cambio pure la mia sciarpina, metto la sciarpina più pesante. Poi c'è la più fangolone. C'è un po' di roba. Sì, secondo me mia madre mi ha dato fin troppa roba, cioè per alcune cose che tengo a Milano mi le date pure. Poi quando sono là non c'ho un cavolo da mettere. Comunque sia, no, vi volevo aggiornare un pochettino. Questa settimana è andata un po' così, nel senso che purtroppo ho dovuto fare avanti e indietro. Ho addirittura preso la metro questa settimana per andare a Milano, cioè per andare a lavoro, perché la settimana scorsa ho avuto un contatto con un positivo. E quindi in realtà, cioè io sono abbastanza tranquilla perché oggi mi sono rifatto un altro tampone e penso che, cioè, non me ne farò altri perché mi sono un po' rotta le scatole, sinceramente, di continuare a farmi tamponi. Però anche a questo ennesimo tampone sono risultata negativa. Quindi tecnicamente dovrei averla scampata, dato che il contatto l'ho avuto di venerdì. Un contatto molto, ma molto, molto, molto ravvicinato. Quindi in teoria dovrei essere abbastanza tranquilla, vediamo. Nel senso che, appunto, è una situazione un po' così del cavolo purtroppo. Io non ci posso fare niente. Così, quindi in realtà ho voluto tenere al sicuro mia madre, il mio tampone oggi, tampono, il mio tampone oggi che è giovedì è negativo, quindi domani che mia madre ha l'attack ci vado tranquillamente. Ma io non ho nemmeno mai avuto sintomi, quindi in realtà, secondo me... Cioè, a sto giro spero vivamente di averla scampata, ecco. Mentre facevo lezioni nei momenti di buchi, pause, eccetera, mi sono messa a montare un pochettino i video, ho trasferito i video, perché c'erano alcune cose interessanti che vi sono proprio messa a prendere a punti, eccetera. altre cose che in realtà... Cioè, c'erano degli esempi pratici e tutto, non lo dovevi semplicemente ascoltare, quindi sono riuscita anche a fare altre cose a casa. Adoro la didattica a distanza e... Quindi niente, no, sono veramente contenta di aver iniziato questo Master in Digital Marketing e Social Media. Buongiorno, allora, che giorno è oggi? Ve lo dico subito. 25 novembre, venerdì. Allora, volevo fare una breve conclusione al vlog. A dicembre vengono i vlogmas. Ieri sera alla fine non abbiamo fatto niente, cioè non è che mi sono messa a filmare, perché ho finito tardissimo di montarvi un video. Ve l'ho caricato, ho sistemato la cucina perché c'era un disastro, un disastro e ho sistemato un pochettino perché appunto questo weekend andiamo via. Noi partiamo oggi stesso e oggi stesso mia mamma c'ha la pack. Basta, me ne vado.